Il nostro Alessandro Chiatto ha scherzato un po' su Ingroia, sull'imitazione che ormai imperversa, l'avete vista anche al Festival di Sanremo fatta da Crozza e lui ha particolarmente apprezzato. Guardate. Ne faccio un'ultima domanda per alleggerire quanto tempo è stato in Guatemala. In Guatemala sono stati due mesi, comunque sono stati mesi intensi, importanti, i vertici dell'organizzazione Nazionale Unita del Guatemala mi hanno anche mandato una mail di ringraziamento perché comunque anche in quei mesi ho potuto dare un contributo all'impegno contro i narcotrafficanti in quelle regioni. Con i bagai o senza i bagai? Quello è il simpatico Crozza che non mi somiglia molto però mi diverte senz'altro. Eh beh, è simpatico, dai.